A Palazzo Ducale, quando cambiano già assessori in giunta, nel corso di questo mandato si è verificato diverse volte, o si ricompone un quadro andato temporaneamente in pezzi, qualcuno in consiglio comunale, nella stessa maggioranza, non gradisce e lo dice apertamente. Martedì pomeriggio è successo ancora una volta. Il sindaco Nicola Sanna ha presentato le due nuove componenti dell'esecutivo, Manuela Palitta, UPC, e Rossana Serratrice, PD. Subito dopo hanno preso la parola due consiglieri di maggioranza. Per Paolo Bazzoni ha annunciato di uscire dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Netta la critica al primo cittadino. È inaccettabile che un consigliere apprenda dalla stampa della nomina di due nuovi assessori. E questa è l'ennesima volta. Giancarlo Serra, partito dei Sardi, ha lasciato invece la vicepresidenza del Consiglio Comunale. Ma se per Bazzoni, il naturale approdo e il gruppo misto componente di maggioranza, per Serra i passaggi sono più articolati. Sarà il direttivo cittadino del Partito dei Sardi, che in giunta continua ad esprimere l'assessore Ottavio Sanna, a valutare la situazione. Nette le critiche dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle si oppone a questa ennesima crisi ed ulteriore spartizione di poltrone a pochi mesi dalle prossime elezioni, dice Maurilio Murru, capogruppo pentastellato. L'unico problema del sindaco è sistemare poltrone, mentre dovrebbe prendere atto del fallimento suo e del PD e dimettersi, commenta Giancarlo Carta, gruppo misto di minoranza. Manuel Alivesi, Forza Italia. Un ennesimo atto grottesco. Il primo cittadino ha dovuto piegarsi alle solite esigenze partitiche, andando a licenziare un assessore, solo ed esclusivamente, per far posta ad un altro. Grazie. Grazie.